Ci troviamo in quella che è stata definita la più grande piazza di Firenze, piazza Vittorio Gui dedicata al fondatore del Maggio Musicale Fiorentino. La piazza è stata inaugurata oggi, mentre il 10 maggio probabilmente sarà inaugurato il nuovo teatro dell'opera. La piazza infatti fa parte del compresso del nuovo teatro dell'opera. Firenze ha tanti luoghi che oggi non sono accessibili per i fiorentini. Il nostro obiettivo è restituirli, ne abbiamo restituiti molti, tanti altri ancora dobbiamo ridarli alla città. Questa piazza è un piazzale, la più grande di Firenze, rappresenta finalmente la conquista definitiva dell'area delle cascine con il teatro dell'opera. Prima avevamo una muraglia che separava i viali da questo teatro e dal parco. Questa muraglia oggi non c'è più, merito della ditta che ci ha consegnato con 40 giorni di anticipo un'opera, merito dei tecnici del comune che hanno lavorato incessantemente per il progetto, 5 milioni di investimento, una cifra che rientra nel budget complessivo con cui abbiamo realizzato il teatro. Da oggi questo piazzale, questo giardino della musica è nuovamente dei fiorentini e mi auguro davvero che possa essere vissuto con grande gioia dalle famiglie, dai giovani, dagli anziani. Questa è una zona che ha avuto tanti problemi ma nel corso di questi 5 anni sono decisamente migliorati. Però aprire i luoghi alla città significa anche dare una risposta in termini di sicurezza urbana e sicurezza sociale.